Attenzione! Questa sera per cena fagioli stufati a seguire un programma musicale! Ma chi l'ha scritto questo? Tu hai smosso la terra! Come dice? Tu hai smosso la terra! Terra da tutto il mondo, di secoli e secoli! Che cosa hai fatto? Ringhiterra non deve mai mescolarsi con la grande fonscia! Questa roba sul mio letto! Ma hai troppe questioni! Chi sei? Chi ti manda? Parla! Io sono... Ne saprò subito quanto basta! Ehi, mi lasci! Mi paretato il piagnon! Sta fermo! Ehi, ecco ti qua! Raccontami la tua storia, mia piccola amica! Fibra di pergamena del 580 Cristo, grafite di matita numero 2, macchie di verdunice ed edificio pubblico, è un gatto passiano dal pelo corto di 2 anni, tesso di una cucciolata di 7! Queste sono la microscopica impronta digitale di un cartografo! E blinguista! Ma come... Deve andartene subito! Fuori, 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 ali, ali, ali! Oh oh, ti sei seduto sulla terra! Molière, ti avevo detto di comportarti bene con gli altri bambini! Indietro! Ho del sapone, e non ho paura di usarlo! Indietro, immonda creatura! Torname le fogne! Mi chiamo Dolce, Joshua Dolce, ufficiale medico! Io sono Milo Tecci! Milo Tecci! L'appuntamento delle tre! Beh, perché perdere tempo? Oh, Cribbio! Carina, vero? Il catalogo dice che questa bellezza può segare un femore in 28 secondi! Sì, io scommetto di impiegarne la metà! Allora, fuori la lingua e di... Oh no, davvero, io non ho... Dove sei? Davvero, ho dei parenti da quelle parti, ma la campagna è da quelle parti! Tu ci vai a pescare? Io odio pescare, io odio il pesce, ne ho del sapore, l'odore e tutte quelle spine! Cioè, queste due me le devi riempire! Con cosa? Milo Tecci, ha il rapporto sul ponte di volando! Oh, grazie! Piacere di averla conosciuta! Ah, il piacere è tutto mio! Piacere di averla conosciuta! Piacere di averla conosciuta! Cosa? Sì, sì.